E' boom di dimissioni volontarie, il fenomeno è nato negli Stati Uniti, ma l'onda lunga ha raggiunto anche l'Italia. La fascia d'età maggiormente coinvolta è quella che va dai 26 ai 35 anni, circa il 70% dei casi totali. Seguita dalla fascia 36-45 anni, spiega l'indagine su un campione di circa 600 aziende, realizzata dall'Associazione per la Direzione del Personale. Ne abbiamo parlato con Valerie Schiener-Emberger, impenditrice esperta nella ricerca e selezione del personale. Abbiamo una tendenza che si sta creando perché è un fenomeno che inizialmente è partito dagli Stati Uniti. Si parla della Great Resignation, Great Reshuffle, quindi la facoltà in realtà che ha ogni lavoratore di dimettersi quando il lavoro non è più consono alle proprie aspettative. Quindi è un fenomeno in crescita perché è nuovo e perché effettivamente adesso arriva anche in Europa e in Italia, questo senz'altro possiamo notare. C'è differenza tra le fasce d'età? Quello che noi ci siamo aspettati è che questo fenomeno riguarda soprattutto le fasce giovani, diciamo la solita generazione Z, magari millennials, di cui si pensava già che avessero una priorità insomma sulla propria persona, sui propri valori. In realtà è qualche cosa che non notiamo anche sulle persone un po' più, con più seniority, mettiamolo così. Quindi un ripensamento un po' dei valori, questo sicuramente provocato, diciamo accelerato per la pandemia e questo desiderio di trovare un buon matching tra quello che è la propria missione professionale e personale. Ci sono due aspetti interessanti, uno che si sceglie il luogo in cui vivere, in cui lavorare, in base ai servizi che vengono offerti e poi anche il part time. Il part time perché voglio avere più tempo per la famiglia, per me stesso, per i miei hobby, per il volontariato. Oppure se io cambio città a secondo dei servizi che mi offre perché trovo appunto che magari una grande metropoli ha dei servizi più consono ai miei ritmi di lavoro, piuttosto che mi permette delle aperture di centri di fitness che vanno bene anche per i miei hobby, e allora questo assolutamente fa parte della decisione che prendo. Quindi è una decisione che prendo per il lavoro che deve andare bene per il mio progetto di vita. Questo nuovo quadro, qual è adesso il tipo di rapporto che si instaura con il dipendente? Il rapporto sicuramente è cambiato perché appunto noi ci troviamo di fronte a un collaboratore, a un dipendente, ma anche a un candidato più direi maturo perché più consapevole di quello che gli serve appunto per lavorare bene, per star bene, che vuol dire anche però di essere più efficace chiaramente. E quindi il rapporto è diventato molto più diciamo alla pari, quindi ci guardiamo negli occhi praticamente quando ci sono questi percorsi di selezione, è qualcosa di nuovo sul quale si può costruire.